Buongiorno bella gente, allora per voi è venerdì, per me è giovedì sera ancora per poco perché manca un quarto d'ora alla mezzanotte sono appena tornato a casa dal cinema e volevo un attimo fare una chiacchierata con voi su quello che è il film che ho appena visto al cinema sto parlando di Black Widow, del primo film della nuova fase 4 del Marvel Cinematic Universe, tecnicamente il film che doveva aprire la fase 4 di questa saga, di questa fortunatissima saga cinematografica Qual è la mia impressione? Cosa mi è rimasto di questo film una volta uscito dal cinema? Ah, prima di tutto, premetto che come avete visto nella copertina ci saranno spoiler cercherò nella prima parte del video di essere un pochino più contenuto, di rimanere un pochino più sul vago per poi dire due o tre cose nella parte finale e lasciare andare gli spoiler quindi a un certo punto se non sarete interessati a spoiler vi conviene fermarvi e poi riprendere il video quando avrete visto il film Che cosa mi è rimasto di questo Black Widow? Ecco, devo dire che a me è piaciuto, mi è piaciuto ma non mi aspettavo questo genere di film Se al posto della sigla iniziale dei Marvel Studios avessimo avuto il leone ruggente della MGM Avessimo avuto l'apertura di 007 o la colonna sonora di Mission Impossible Beh, sarebbe stato decisamente più consono Questo non è un film dove ci sono supereroi mascherati che si tirano degli sganassoni talmente potenti da tirare giù palazzi Da far sentire le onde d'urto anche a chi è tra il pubblico a vedere il film Ma è un film di spionaggio Un film di spionaggio nel vero senso della parola Se pensiamo ad altri film del Marvel Cinematic Universe Che si possono anche solo minimamente avvicinare a questo film L'unico che mi viene in mente è Captain America The Winter Soldier Perché era un film diverso Però anche quel film lì Si, si sentiva la vena di spionaggio Si sentiva che non era un film di Captain America come il primo Che non era un film degli Avengers Che non era un film dove c'erano supereroi che si prendevano a pigne sui denti Nonostante ci fosse un soldato d'inverno Decisamente, decisamente OP Ecco, questo è un film di spionaggio in tutto e per tutto Cioè noi abbiamo delle spie Che si muovono da spie Che agiscono da spie Che cercano di sventare un piano Muovendosi esattamente come si muoverebbero le spie del mondo cinematografico Quindi, se siete avvezzi a film come la saga di James Bond Quindi, i vari The World Is Not Enough I vari Golden Eye Moonraker Capite bene qual è lo stile di questo film Cioè proprio uno stile, sì Di film di spionaggio Decisamente sopra le righe Perché ci sono scene decisamente sopra le righe Decisamente potenti a livello visivo Notevoli le scene d'azioni Ma è un film d'azione Un film d'azione, scusate, un film di spionaggio Detto questo Cerchiamo un attimo di venire ai personaggi Allora La vedova nera Natasha Romanoff Sempre in character Sempre bellissima Sempre veramente meravigliosa Sulla sua capacità Sulla sua capacità La capacità di Scarlett Johansson Di recitare Di passare da uno stato d'animo all'altro Dalla donna fragile e insicura La donna forte e potente Dal momento di tensione Di pianto Al momento di Di cazzutaggine Di figaggine notevole Ecco Lei Ha grandissime capacità Scarlett Johansson È una grandissima attrice E in questo film Continua a mostrarlo Poi abbiamo gli altri attori Florence Pugh Nel ruolo di Jelena Belova Anche lei Secondo me è stato un bellissimo casting Hanno Secondo me Centrato un altro bel personaggio Che molto probabilmente Avrà da dire Nel futuro Un altro personaggio Che secondo me È azzeccatissimo Azzeccatissimo È David Arbor Che interpreta Red Guardian Veramente Veramente Divertentissimo Il suo personaggio Forse Un po' svilito Dal Dall'essere una sorta Di comic relief Della situazione Però Nonostante abbia Le parti comiche Ha comunque Alcune scene Alcune situazioni Che sono veramente Veramente Interessanti Veramente Veramente Notevoli E mi auguro Realmente Che questo personaggio Non finisca Nel dimenticatoio Dopo questo film Perché è un personaggio Riuscito Ed è un personaggio Su cui Si può costruire Qualcosa Per il futuro Del Marvel Cinematic Universe Poi abbiamo A mio modo di vedere La nota dolente Del gruppo Dei protagonisti Cioè Il personaggio Di Melina Interpretato Da Rachel Weisz E la coprotagonista La coprotagonista Della mummia Adesso non mi ricordo Il personaggio Che Il nome del personaggio Della mummia Della trilogia Della mummia Non Di quella sorta Di Di mummia Che picchiava Come Hulk Dove c'era Anche Che sembrava Più Mission Impossible Che non Che non altro Ok Io l'ho trovata Un po' Out of character Non è un personaggio Che Rimane impresso Non è un personaggio Che Fa la differenza Nelle scene D'azione Non è un personaggio Che fa la differenza Nelle scene Devo essere sincero Per me Il personaggio Di Melina E l'interpretazione Di Rachel Weisz È Abbastanza Dimenticabile Abbastanza Risibile Devo essere sincero Veniamo un attimo Un paio di cose Prima di passare Un attimo Agli spoiler Credo Credo Che in questo film Sia ben visibile Davvero ben visibile La L'impronta Di Jack Schafer Cioè La sceneggiatrice Che ha scritto Wandavision Perché Perché dico questo Cioè Questo sì È un È un film di spionaggio Però Lascia Grandissimo spazio Amplissimo spazio A quello Che è Il lato Emotivo All'interiorità Allo sviluppo Del Del tema Del tema Della famiglia Cosa che è stata portata avanti Anche in Wandavision E Devo dire Che Tutta la parte Introspettiva La parte Dove Si curano I rapporti Tra i personaggi Nonostante Nonostante Ci siano Alcuni Clichè Notevoli Ben visibili Chi è avvezza un attimo Al cinema Li vedrà E li riconoscerà Immediatamente E Credo che Li abbia curato In maniera Notevole Tutta la parte Di sceneggiatura E La parte emotiva Si vede che ha una mano Femminile Decisamente Decisamente Allora ragazzi Detto questo Vabbè Non vi sto a dire Penso di avervelo già detto Che a me il film È piaciuto Quindi Se siete appassionati Del Marvel Cinematic Universe È da vedere Tranquillamente E credo che sia Un Bellissimo film D'addio Per Il personaggio Di Vedeva Nera Decisamente Un gran bel film D'addio Per Il personaggio Di Natasha Romanoff Detto questo Ragazzi Passiamo un attimo Sul lato Spoiler Fermi 3 2 1 Iniziamo Veniamo A Un po' Alla parte Finale Di questo film Cioè Allora Il Cioè Prima di tutto E Il Personaggio Di Adesso Non mi ricordo Il nome Del personaggio Andiamolo a cercare Che due Maroni Ad ogni modo Di Taskmaster Ecco Il personaggio Di Taskmaster Che Nelle scene Dei trailer Sembrava Il main villain Del Del film È un personaggio Benvenuto Un'introduzione A tre personaggio A tre personaggi Importanti La nuova vedova Nera Quindi Yelena Belova Taskmaster Figlia Di Dreykov Del Main villain Del film E Il personaggio E il personaggio Di Red Guardian Perché Dico Che Secondo Me È Un'introduzione A questi Tre personaggi Di base Per Come si chiude Il film Perché Alla fine Dello scontro Tutto Quanto Le vedove Se ne vanno Sul loro Aereo Caricano Su La famiglia Quindi Melina Red Guardian E Yelena Belova E Nell'andarsene Caricano Via Caricano Con loro Anche Taskmaster Antonia Dreykov E Quindi Sono Decisamente Convinto Che Avrà Un ruolo Nel futuro Perché Non è Una Una Vedova È Superiore A una Vedova Bisogna Capire Secondo Me Se Ha Anche Il Siero Del Supersoldato Perché Per come Tiene Testa In uno Scontro 1 a 1 Red Guardian Che Ha Il Siero Del Supersoldato Credo Che sia Abbastanza Chiaro Che Abbia Questa Forza In sé Però Proprio Per il suo Stile Di Combattimento Per tutte Le cose Che Fa E Non Fa Lo Vedo Proprio Come Un Personaggio Introdotto Anche Per Eventuali Pellicole Future Non Mi Meraviglierei Non Mi Meraviglierei Che Entrasse A Far Parte Dei Dark Avengers Perché E qua Veniamo Alla Post Credit Che è Una Nella Post Credit Vediamo La Contessa Valentina Allegra De Fontaine Parlare Con Elena Belova Ed è Chiaro Ed è Chiaro Che Entrambe Fanno Parte Della Stessa Agenzia Che Valentina La Contessa È La Contractor Di Questa Di Questa Azienda Di Questa Agenzia E Che Elena Belova È Colei Che A cui Vengono Affidate Delle Missioni Tant'è Vero Che Le viene Affidata Una Missione A fine Nella scena Post Credit E Sarà Interessante Capire Come Si Svolgerà E Come Verrà Portata Avanti Perché A mio modo Di Vedere A questo Punto Vedendo Come La Post Credit Florence Piu E quindi Elena Belova La Rivedremo Quest'autunno Nella Nella Serie tv Hokai Dove Vedremo Occhio di Falco Passare Il Testimone A Quella Che Sarà La Sua La Sua Discepola Ok Però È Interessante Anche In Questo Film Che In Teoria Doveva Avere Più Di Una Post Credit A Quanto Pare Sono State Modificate E Cambiate Nel Corso Del Tempo Proprio In Seguito Al Covid E Soprattutto In Seguito Al Cambiamento Della Schedule Dei Dei Film Dell'ordine Dei Film E Delle Serie Televisive E Hanno Voluto Inserire La Blablabla De Fontaine E Proprio Per Creare Un aggancio Con Le serie Televisive E Yelena Potrebbe Essere La Vedovaniera Dei Dark Avengers Ma Non Credo Credo Piuttosto Che sia La Vedovaniera Dei Young Avengers Così Come Credo Piuttosto Che Taskmaster Diventi La Vedovaniera Dei Dark Avengers Anche Perché Un altro Personaggio Dei Dark Avengers Ce l'abbiamo Perché US Agent Lo vedo Come Membro Di una Formazione Come Quella Di Dark Avengers E Vedremo In futuro Come Andrà Avanti Devo Dire Come Primo Film E Come Film Di Genere Quindi Non Il Classico Film Super Eroistico Ma Un film Mi Ripeto Di Spionaggio Molto In Stile Mission Impossible Devo dire Che Mi ha soddisfatto Mi ha soddisfatto E sono curioso Di vedere Come saranno fatti Anche i prossimi Film E parlo Per esempio Di Shang-Chi La leggenda Dei Dieci Anelli Che Dovrebbe Essere Un film Più Di Arti Marziali Più Un Film Spero Che Non Scignotti I film Di Kung Fu Del Cinema Di Hong Kong Ma Che Renda Omaggio A quel Genere E I Fin Successivi Quindi I Vari Spider Man Doctor Strange In Horror E Tutto Quello Che Ne Conseguirà Detto Questo Ragazzi Io vi saluto Vi invito a mettere like Se vi è piaciuto il video Dislike Se non vi è piaciuto Voglio sapere Che cosa Ne pensate Cosa Ve ne è parso Di questo film Quindi Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Ovviamente Cercate di essere Il più Corretti Possibile Senza Scadere Nel Becerume Di Insulti E cose Del genere Perché Come sto vedendo Nei commenti Che state facendo Negli altri video Siete ottimi Mi piace proprio Come dice anche Gabri Re E Le discussioni E le chiacchierate Che ci sono qua sotto Nei commenti Sia tra di voi Che Tra di noi Perché comunque Facciamo parte anche noi Della Banda E Ovviamente Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per Avere i nostri Per vedere I nostri video I nostri aggiornamenti Seguitici sui social Qua sotto in descrizione Vedete tutti i social In cui siamo In cui siamo Abbiamo una pagina E Soprattutto Seguiteci ragazzi Su Twitch Seguiteci 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 Supportateci Tanto su Twitch Abbiamo bisogno di voi Ok Detto questo ragazzi Buona giornata Io vado a letto Ciao